Bisognerà attendere almeno un paio di mesi per conoscere ufficialmente l'elenco delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi derivanti dallo smantellamento delle centrali atomiche italiane, a cominciare da quella di Caorso. La SOGIN, società che gestisce tutta la partita del nucleare in Italia, ha infatti consegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale la sua proposta. Ora lo stesso ISPRA ha due mesi di tempo per verificare la corretta applicazione dei criteri tecnici alla base della scelta e per validare la carta proposta da SOGIN. Al termine di tale lavoro è previsto che entro un mese il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente comunichino il loro nulla osta affinché SOGIN pubblichi l'elenco, aprendo così, spiega la società, una fase di consultazione pubblica e di condivisione che culminerà in un seminario nazionale dove saranno invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti ed interessati. Il Deposito Nazionale, spiega ancora SOGIN, sarà un'infrastruttura ambientale di superficie dove mettere in totale sicurezza i rifiuti radioattivi. La sua realizzazione consentirà di completare il decommissioning degli impianti nucleari italiani e di gestire tutti i rifiuti radioattivi, compresi quelli provenienti dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, permettendo quindi la sistemazione definitiva di circa 75.000 metri cubi di rifiuti di basse e medie attività e lo stoccaggio temporaneo di circa 15.000 metri cubi di rifiuti ad alta attività. Contestualmente sarà realizzato anche il Parco Tecnologico, un centro di ricerca aperto a collaborazioni internazionali dove svolge l'attività nel campo del decommissioning, della gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile in accordo con il territorio interessato, che per il momento ancora non si conosce.